Allora prima di iniziare con la recensione di oggi vi ricordo che sul sito i pampling che trovate linkato in descrizione qui sotto trovate il 3x30 ovvero 3 magliette a soli 30 euro e ci sono un sacco di magliette tra cui quella che indosso cadrega a tema Aldo Giovanni e Giacomo bellissima vi metto il link a questa maglietta in descrizione qui sotto e se a vostro acquisto aggiungete un paio di calze a vostra scelta e usate il codice VILASLO le calze non le pagate quindi se vi interessa sapete cosa fare Ora però mando le ciance iniziamo subito con il video di oggi sigla Allora oggi voglio parlare di un film che mi interessava tantissimo devo essere sincero ci credevo perché dal trailer non sembrava niente particolarmente originale da un punto di vista narrativo ma visivamente ci vedevo qualcosa di molto intrigante E quindi speravo che in un'epoca in cui la maggior parte dei blockbuster sono seguiti, reboot, remake o comunque proseguimenti di franchise, spin off e quant'altro Potesse esserci ancora spazio per un'idea magari non totalmente nuova ma che assemblasse riferimenti a opere precedenti creando qualcosa che comunque fosse di intrattenimento Quindi sono andato a vederlo e purtroppo sono rimasto molto ma molto deluso Mi riferisco ad un film del 2023 per la regia di Garrett Edwards ed è The Creator Allora in tanti mi chiedevano ma come mai sei così interessato a The Creator? Non sembra niente di particolarmente eccezionale Io ne avevo sentito parlare bene da chi lo aveva visto in anteprima c'erano anche delle recensioni piuttosto entusiaste Io cerco di non farmi mai influenzare dal parere altrui però è anche vero che quando sento parlare così tanto bene di un film che mi interessa Sono contento perché questo mi aumenta la voglia di vederlo Quindi andando in sala io non è che avessi delle aspettative esagerate ma pensavo di trovarmi di fronte a qualcosa che potesse intrattenermi Che mi facesse passare un paio d'ore in tranquillità magari anche con delle buone scene action perché comunque stiamo parlando di Garrett Edwards Garrett Edwards è il regista di un monster movie a basso budget intitolato Monsters di diversi anni fa che a me non era affatto dispiaciuto Un gioiellino Poi proprio perché con poco budget aveva tirato fuori un buon monster movie Warner lo aveva incaricato di dirigere il Godzilla Quello con Bryan Cranston e Aaron Taylor Johnson il primo del cosiddetto Monsterverse E quindi poi lo avevano messo a dirigere Rogue One a Star Wars Story che era un signor film Uno dei migliori film su Star Wars per quanto mi riguarda Per cui sono anche andato abbastanza tranquillo a vedere questo The Creator A conti fatti che cos'è questo film? Una pellicola che da un punto di vista registico del montaggio e del comparto visivo non si può dirgli nulla È visivamente spettacolare Le scene action sono realizzate molto bene Ha anche degli effetti visivi eccezionali in alcuni momenti sono davvero splendidi E poi c'è la colonna sonora di Hans Zimmer che fa il suo Non la colonna sonora più memorabile del maestro Ma sicuramente calzante per un film di questo tipo E allora dove sta il problema? Il problema è che è un prodotto confezionato molto bene Con un ottimo guscio Che però è vuoto Non c'è la sostanza Non ce n'è proprio E aveva anche un cast interessante Il protagonista Joshua è interpretato da John David Washington Che è un attore che a me piace tantissimo Che negli ultimi anni si sta facendo notare parecchio Per cui mi è spiaciuto anche perché il personaggio non è stato scritto bene Lui è stato anche abbastanza bravo Però è un personaggio con un passato un po' torbido Che inizialmente non si fida di niente e di nessuno Ma che poi rivela la sua natura di tenerone Ed è legato a questo personaggio Una bambina che in realtà è una simulante Ovvero un'intelligenza artificiale Un robot Che è la chiave per svoltare il futuro dell'umanità Che combatte contro le intelligenze artificiali Ma anche qui È proprio l'idea da cui parte il film Che secondo me non funziona più di tanto Raccontare la lotta tra l'uomo e la macchina Soprattutto in un periodo in cui le persone stanno realmente lottando contro le intelligenze artificiali Che rischiano di portare via il lavoro in moltissime categorie a tanti lavoratori Soprattutto per quanto riguarda l'intrattenimento Il motivo dello sciopero, degli sceneggiatori e degli attori È anche l'imperversare senza una reale regolamentazione proprio dell'intelligenza artificiale Quindi credo che nonostante sia una tematica assolutamente abusata Nei prodotti fantascienza Che siano cinematografici, letterari, videoludici o quant'altro È comunque molto molto attuale Per cui mi piaceva l'idea Il problema è come l'hanno posta Il film non ha un reale world building Io mi aspettavo questo Perché siccome guardandolo ci si accorge che hanno preso un po' da Elysium di Neil Blomkamp Un po' anche da Ciappi secondo me, Human Droid E poi c'è un po' di O-Robot C'è un po' di Terminator C'è un po' tutto Ci sono anche un paio di cose che un filino mi hanno ricordato L'unico di essere nello spazio per quanto riguarda la consapevolezza Delle intelligenze artificiali ma proprio poca roba Però si vede che è un film estremamente derivativo Già che è così Mi aspettavo un world building Cioè in che cosa poteva differire Poteva differire nel raccontarti la realtà che vivono i personaggi È tutto invece spaventosamente superficiale Ci dicono che c'è stato un incidente che ha spazzato via Una città negli Stati Uniti d'America Non vi dico quale, non vi dico come Anche se lo dico nel trailer Ma vabbè, magari qualcuno l'ha visto Non voglio fare troppo spoiler E da lì sono anni che gli Stati Uniti d'America Lottano contro gli stati della Nuova Asia Che invece vogliono mantenere le intelligenze artificiali Però al di là di questo Non c'è una reale costruzione A un certo punto L'azione si sposta per breve tempo In questa città In questa capitale Mi avessero mostrato Un minimo Com'è la vita in questa capitale Ci sono due o tre scenografie Abbastanza suggestive Che poi però Vengono sostituite da luoghi chiusi Hanno perso l'occasione Per Prendere lo spettatore E catapultarlo Catapultarlo A calci nel culo All'interno di questo mondo E poi Da un certo punto in poi È tutta una ripetizione Della stessa scena Ancora 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 Visivi a Blomkamp Dammi qualcosa di più Io speravo magari Che ci fosse anche La trattazione di tematiche importanti Ad esempio Inizialmente pensavo che Il fatto che ci fosse una guerra Tra l'occidente rappresentato Degli Stati Uniti d'America E i paesi della Nuova Asia Fosse per sottolineare Magari I contrasti Le contraddizioni Di una politica Molto guerra fondaia Invece no Neanche quello Cioè mi aspettavo Che si andasse a parlare lì E invece no Perché a un certo punto C'è tutta una questione Che secondo me Non sta in piedi Non sta proprio in piedi E la critica non esiste Per cui anche qui Si poteva fare molto di più Vediamo queste creature Ma Capiamo che provano sentimenti Ma Non lo so Hai dei personaggi Che rappresentano Le intelligenze artificiali Al di là della bambina Che è una cosa a parte Perché È una creatura Differente dalle altre Approfondisci Ad esempio Il personaggio di Ken Watanabe Che con Edwards Aveva già lavorato In Godzilla per l'appunto Ma Fammi capire qualcosa in più Di questo personaggio Fai sì che questo personaggio I suoi compagni Magari mi diano Una prospettiva diversa Anche qui Io pensavo Che volessero fare una cosa Simile a quella che Spielberg fece con i robot Rottamati L'intelligenza artificiale Film straordinario A cui questo The Creator Un pochino Si ispira E invece no Il personaggio di Gemma Chan Spiegatemi che senso ha Cioè A un certo punto Io ero lì che mi chiedevo Ok va bene Ma A che pro Tutto questo Ma la stessa Alfie Ovvero La bambina Che si lega A Joshua Perché È scritta In maniera così Blanda Allora Il problema principale Per me È che Il film inizia C'è La classica introduzione Ti introducono La realtà In cui stanno vivendo I protagonisti Poi Dopo questo breve flashback Si passa ad un altro flashback Che ti mostra L'evento cruciale Che ha rovinato La vita del protagonista Dopo questo Si passa Qualche anno dopo Il film inizia C'è la situazione Iniziale E poi si entra subito Nel vivo Con lui Che si affeziona Alla bambina In maniera troppo repentina Peraltro Lui ha dei sentimenti Contrastanti Fin da subito Nei confronti di lei Prima cerchia di allontanarla Poi non la deve allontanare Soprattutto A un certo punto Ti danno Una spiegazione Un po' così Ma non è abbastanza Per spiegarmi Come mai Manchi un pezzo In realtà Mancano molti pezzi Ci sono proprio Dei momenti In cui il film Diventa Proprio Narrativamente Ha uno scatto in avanti Rapidissimo E siamo già In una situazione successiva Che sarebbe stata Da costruire E questo io Non me lo spiego Se non Con il pensare Che probabilmente È un film Estremamente tagliato Se sentite il rumore Perché sta facendo I lavori ragazzi Ma chiedo scusa Ma purtroppo Potevo fare il video Solo oggi E quindi Vi beccate I trapani Comunque sia È questo Il problema Credo che il film Sia stato Estremamente tagliato Ma proprio tanto Ma si vede Si vede tanto E anche Da come Dai capelli Il protagonista Che a un certo punto Cambiano all'improvviso Perché a volte Ha le trecine Bionde A volte no Secondo me c'è stato Un po' Un casino A livello Non tanto di montaggio Ma proprio di scelta Del materiale Penso che Il cut iniziale Durasse tantissimo E gli hanno chiesto Poi di ridurlo A due ore dieci Due ore un quarto Quello che dura il film Sono quindi rimasto Molto deluso Da come questa sia Una occasione Sprecatissima Ma un'occasione Sprecata Perché è un film Che sulla carta Nonostante fosse Molto derivativo Poteva avere Tanto da offrire Cazzo Come dicevo all'inizio Oggigiorno Se andate a guardare I blockbuster Che incastrano maggiormente Ma anche quelli Che sono stati flop Ultimamente E sono tutti Sequel Come ad esempio Non so Indiana Jones 5 Transformers Il risveglio E poi c'è stato The Flash E poi c'è stato Blue Beetle Che sì È un film Più stand alone Ma fa comunque parte Di un universo narrativo Sono tutti così La silenetta Era Remake Dell'originale In animazione Classico Disney Boh Ragazzi È tutta roba Stra Iper Derivativa Ma in maniera Proprio Pesante Cioè non è Come questo film Che è derivativo Nel senso che Prende un po' Qua e là Ok Sono proprio Film Riferiti ad altri Franchise O altri brand Che hanno già Stati sfruttati In passato Abbiamo Un film Con un budget Che in realtà Non è così alto Come potrebbe sembrare Però comunque Non era un budget Piccolo Era un budget Da blockbuster E il tutto È sfruttato solo Da un punto di vista Meramente D'impatto estetico Perché se devo giudicare L'estetica Niente da dire Anche la realizzazione La messa in scena Di alcuni elementi Sono secondo me Fatti molto bene Io ho trovato Un impegno Da parte di Garrett Edwards Per quanto riguarda Questo film Il problema è che Questa è fantascienza Buon mercato Mi dispiace Ma non c'è nulla Che dia una specificità A questo prodotto Perché Ci sono un sacco di film Che hanno preso A piene mani Da prodotti precedenti Ma che sono usciti bene Lo stesso Ex Machina Per dire Che secondo me Un po' è ispirato Anche da un punto di vista Visivo I Simulant Il personaggio Della Vikander Somiglia molto Ai Simulant Che vediamo in questo film Se proprio vogliamo Starla a guardare Ex Machina Non è che si era inventato niente Però il modo In cui Garland Aveva gestito La storia Facendola Diventare un thriller psicologico Davo una cifra stilistica Unica Al suo film Edwards No Non ha proprio Non è proprio riuscito A trasformare L'idea di base In un film Che potesse funzionare Se poi parliamo Della recitazione John David Washington È stato anche abbastanza bravo Gli altri Sono lì Gemma Chan Non ha neanche Ha avuto il tempo Di sviluppare il suo personaggio Secondo me Ken Watanabe Che è un attore bravissimo Interpreta un personaggio Che è lì Non aggiunge niente E non toglie nulla È un personaggio Che poteva tranquillamente Essere un robot Senza faccia umana E sarebbe stato uguale Perché l'espressività è quella E non perché Watanabe Non sia un bravo attore Ma perché non è stato valorizzato Neanche un po' Poi Edwards Ha questo modo Di dirigere Presentandoti queste panoramiche Vastissime Che ti fanno sentire minuscolo E mi dispiace Che questo Ci sia anche Nel film Anche in questo film Perché questo mi fa capire Che Edwards Come regista È un mostro E lo dimostra anche In The Creator E allora io mi chiedo Come mai Non sono riusciti Mannaggia tutto A rendere il film Non dico iconico Ma almeno interessante Perché il problema grosso È che io mi sono rotto i coglioni Mi sono fatto due palle così Guardando questo film L'ho trovato Noiosissimo Dopo la prima parte Diventa tutto talmente ripetitivo Talmente poco interessante Che io non ho più retto E sono arrivato Alla fine Annoiato a morte E che non vedevo l'ora Che finisse Soprattutto Tutta l'ultima parte Va a vanificare Completamente Quello che In teoria È lo scopo Della ragazzina Della bambina Io avrei voluto Vedere qualcosa di diverso Quando mi hanno presentato Quel personaggio Perché sembrava Che dovesse avere Un'importanza maggiore E alla fine Complici anche il fatto Che il loro rapporto Non si sviluppa Ma si crea dal nulla Io mi sono ritrovato A guardare scene Che dovevano essere toccanti Ma di cui non mi fregava niente Se un personaggio Era in pericolo Non sentivo Quel brivido Che dovrei avere Quando un personaggio Importante A cui mi sono affezionato Nel corso della pellicola Rischia di morire O comunque Di finire male Qui non c'è stato Nessun momento In cui io mi sia sentito Vicino ai personaggi Zero Neanche alla bambina Che è un personaggio Dolcissimo Ma che All'inizio Deve fare una cosa E ha una certa capacità E poi dovrebbe usare Quelle capacità Per arrivare A un certo obiettivo E poi questa cosa Si perde per strada E sembra quasi Che non si ricordino più Che la bambina Sa fare certe cose Poi se lo ricordano All'improvviso E poi se lo dimenticano Di nuovo Soprattutto Ci sono proprio Dei momenti In cui io mi sono chiesto Ma perché Pensano che questa cosa Funzioni Da un punto di vista narrativo Soprattutto nella seconda parte La trama fa Acqua Da tutte Le parti Ci sono dei crateri Grossi così E Delle cose Che una volta Che si vedono Messe in scena Non sono per niente credibili E non perché si tratti Di un film di fantascienza Proprio perché Anche nell'ottica Della fantascienza E del patto narrativo Che io spettatore Stringo implicitamente Con l'autore Con il film stesso Non riesco comunque A crederci Non riesco a pensare Wow Questa cosa effettivamente Ha senso Assolutamente no Perché Se tu per tutto il film Mi fai credere una cosa E poi a un certo punto Dici No ma guarda Che basta quello E io lì mi incazzo E dico Beh non avete saputo scrivere Quello che volevate esprimere Soprattutto Diciamo che il titolo Dei creator È emblematico Perché all'interno del film C'è la figura Di Nirmata Il creatore La persona Che ha creato Intelligenze artificiali Che ha dato loro La spinta Per vivere Ed evolversi E diventare Una vera e propria Specie Nuova Che abita il pianeta Il problema È che hanno cercato Di creare Un'alone di mistero Intorno a Nirmata Quando poi Si capisce Chi è Nirmata Cosa vuole fare Secondo me Sulla fronte Di chi guarda Compare un gigantesco Punto interrogativo Perché poi Un attimo dopo Ti dicono una cosa Che ti fa capire Che in realtà La rivelazione Non ha il senso profondo Che avrebbe dovuto avere I colpi di scena In questo film Sono blandi Ma soprattutto Non funzionano Non è un film brutto Non è un film terribile Lo ripeto È una gigantesca Occasione Sprecata È proprio Quel tipo di film Che sulla carta E per alcune scene Funziona E ti fa pensare Caspita Poteva essere Qualcosa di grandioso Ma che poi Quando Va a svolgersi il tutto Ti rendi conto Che non hanno saputo Sfruttare il suo Gigantesco Potenziale Peraltro hai Un regista Che ha diretto Finché sono stati Molto apprezzati Tanto dal pubblico Quanto dalla critica Hai Attori Di punta Perché comunque John David Washington È un attore Che zitto zitto Si sta facendo La sua bella carriera Perché comunque È vero che Tenet A me non è piaciuto Ma un sacco di gente Sì E lui in Tenet Era stato molto bravo Quindi Mi chiedo Cosa porta Un regista Una produzione Ad avere per le mani Una bomba Orologeria Cioè qualcosa Che è interessante Pronto a esprimere Un grande potenziale E poi a Gettare tutto Così alle ortiche Senza una reale motivazione È come se Ci fosse Stata della pigrizia Come se certe cose Non avessero voluto farle C'erano proprio dei momenti In cui mi chiedevo Ma perché Invece di fare questa cosa Non hanno fatto l'altra Che era l'altra Direzione in cui poteva andare tutto Magari rendendo il film Più dinamico Non lo so Io non me lo spiego Non riesco a capire Come mai Un film del genere Pieno di azione Con una tematica Così interessante Riesca a essere Al contempo Così noioso Magari poi Voi lo andate a vedere Lo trovate fantastico Sto sentendo di persone Che lo hanno apprezzato Io proprio non ce la faccio Perché per me I film brutti sono altri Quanto meno Si salva tutto Dal punto di vista tecnico E alcune cose Anche a livello di trama Sono interessanti Però molto meno Rispetto a quelle Che invece non funzionano E allora Quando si apre le mani Una cosa del genere Secondo il mio modesto Punto di vista C'è un problema C'è un problema Perché sembra Che ad Hollywood Non si riescono più A tenere fuori Nuovi blockbuster Che riescono a funzionare A camminare Con le loro gambe Per l'amor di dio Abbiamo avuto Barbie Però Barbie Nasce anche quello Da un marchio Ok Poi per l'amor di dio È un film particolare Molti l'hanno odiato Molti l'hanno amato Però diciamo che Non è originale in toto Mettiamola così Comunque c'è parte Da qualcosa Che già esiste Oppenheimer È un film fantastico È sicuramente un film Che parte da una storia vera Però poi Ci vedi proprio Nolan In tutto e per tutto Infatti Nolan È uno dei pochi Che nell'ultimo periodo È riuscito a presentare Un film che però Non è un vero e proprio Blockbuster Lo è diventato Per i soldi Che ha guadagnato Per l'opinione Che ne hanno La critica del pubblico Però se ci pensate 100 milioni di dollari Non è un blockbusterone Però il blockbuster Non lo fa solo il budget Lo fa anche proprio L'idea Con cui il film si pone E quindi Oppenheimer Come la maggior parte Di film di Nolan Ha il carattere Del blockbuster Però è l'unico Tutti gli altri Non sono riusciti A tirar fuori Qualcosa di realmente Interessante E questo Rischia di essere L'ennesimo In successo Di Disney Quest'anno Penso che sia Il centenario Più disastroso Che un'azienda Possa immaginarsi E quest'anno È il centenario E hanno fatto Flop su flop Ora magari The creator Non sarà un flop Io gli auguro Di non esserlo Attenzione Perché non è che Se a me il film Non ha fatto impazzire Non è piaciuto Allora spero che fallisca Anzi Se dovesse essere Effettivamente Un successo Io sarei felice Per Gareth Edwards Per 20th Century Studios Io spero Vivamente Che le persone Gli dino la possibilità E io mi auguro Che questa mia recensione Non faccia desistere Chi guarda Da andare a vedere il film Anzi Io spero Che le mie parole Siano uno stimolo ulteriore Ad andare a vedere il film Per farvi la vostra idea Perché se c'è una cosa Che a me dispiace È quando ci sono Persone che mi dicono Ah meno male Che mi hai detto Che il film non ti è piaciuto Così non lo vado a guardare Ma io non faccio video Per quello Io non faccio video Per far sì Che le persone Non vadano a guardare Che i film Che a me non sono piaciuti Caspita Io capisco Che poi Uno Non ha magari Tutta la disponibilità Economica Nel mondo Se una persona che seguo È un film Un film che a me personalmente Gli attori Gli attori hanno fatto Non lo vorrebbe trasformare in un franchise E ci sta Perché dobbiamo sempre trasformare tutto in un franchise Non può esserci solo un film che è bello Rimane lì E non ha seguiti Non ha spin off Non ha un cazzo A me va anche bene È una cosa che io personalmente posso anche apprezzare Ma onestamente credo anche che difficilmente potrebbe avere il successo per essere trasformato in un franchise E questo è il problema È un film che vive di idee riciclate spesso anche male C'è veramente di tutto in questo film E che ha perso l'occasione per mostrare un mondo pulsante Per dire io avrei fatto piuttosto un film drammatico ambientato in questo mondo Giuro Poi c'è la tematica del tizio con il passato triste Che deve prendersi cura di una bambina O comunque di una persona più giovane Che è una cosa che nel cinema si fa da un sacco di tempo Anche nelle serie tv Recentemente è andata molto forte la Stovasla Gente adorata da Mandalorian Ed erano entrambi prodotti dove c'era un adulto Che doveva prendersi cura di una creatura più piccola, più giovane Ok Penso ad esempio per andare indietro nel tempo A Leon di Luc Besson Per dire ma si potrebbero citare tantissimi film di questo tipo The Road The Road Quello tratto dal romanzo di Colman McCarthy con Viggo Mortensen È un altro bellissimo Che se non sbaglio è quello che aveva ispirato tra l'altro della Stovasla Non vorrei dire una cazzata ma mi pare che Mi pare che Druckmann si era ispirato tantissimo a quello Per dire per cui è uno stilema molto tipico E l'hanno messo in scena nella maniera più blanda e meno interessante possibile Io non capisco come si possa fare una roba del genere Colonna sonora fantastica Regia, fotografia e quant'altro Non possono sopperire ad un film Che oltre a quello ha ben poco Il fatto che Gareth Edwards diriga le scene action in maniera comprensibilissima Magari mostrandoti le armi ipertecnologiche Che sono anche messe in scena molto bene Non serve a nulla se poi non arriva il patos Se non c'è un climax Un qualcosa che mi fa dire Mamma mia sta scena che roba incredibile Perché anche nelle scene più spettacolari Sentivo che mancava qualcosa Quel qualcosa si chiama scrittura Mannaggia a loro E tutto questo manca Per cui è un film che io non sono riuscito Quasi per nulla ad apprezzare E altra cosa Ci sono una sequela di personaggi Che sono di un'inutilità che non vi so spiegare Vecchi commilitoni del protagonista Di Joshua Che boh sono lì per fare figura Ci sono i personaggi Quello di Alison Janne e l'altro Quindi i due militari Che boh sembrano importanti E alla fine si fanno qualcosa Ma niente di che Ci sono personaggi piattissimi Non sappiamo chi sono Cosa fanno Le poche scene in cui viene spiegato qualcosa Sono degli spiegoni allucinanti Non c'è la via di mezzo O ci sono le scene action Tutte boom boom Esplosioni e raggi laser Oppure le scene di loro fermi Che spiegano allo spettatore Quello che stanno vedendo Il passato del personaggio Senza fartelo vedere Ma spiegandotelo e basta Non c'è equilibrio proprio nella scrittura E questo lo rende Un film Che per me Non Non risulta interessante Non è funzionante È un peccato È un peccato Una grande Gigantesca occasione Sprecata Ma Fatemi sapere voi Cosa ne pensate di The Creator Se l'avete visto Se l'avete visto Se lo potete vedere Insomma Vi è piaciuto Non vi è piaciuto Parliamone Discutiamone Nei commenti Io vi abbraccio Vi ringrazio Grazie Mi sono stati fin qui Noi ci vediamo al prossimo video Se il film non l'avete ancora visto Se l'avete visto Se l'avete visto Gli spoiler iniziano tra 3 2 1 Muore anche lui E Di quel personaggio Cosa possiamo dire Niente Il tizio Compagno di Joshua Nella missione Del presente Che muore E poi arrivano i due militari Che salvano la sua memoria La mettono in quella Di un androide Spento lì vicino E hanno 30 secondi Per farsi dire Dove Joshua Si è andato Che senso ha Anche questa cosa È interessante Che si possa prendere La memoria Delle persone morenti E farle rivivere Per qualche secondo Per poter parlare con loro Non è male come cosa Approfondisci Melo un minimo Quanto meno Hanno avuto la decenza Di usare questo espediente Con Loro che salvano La memoria Della moglie Di Joshua Con la bambina Che quando attaccano Nomad Mette la memoria In un androide Con l'aspetto di lei Che aveva dato Il suo volto Per Ad altre intelligenze artificiali Perché si può Fascanalizzare il volto In questo mondo E donarlo A intelligenze artificiali Varie Il punto qual è? Il punto è che La scena finale Con Nomad Che esplode Il protagonista Che sta per morire A bordo Che incontra L'intelligenza artificiale Col volto della moglie E la mente Della moglie È anche carina Ma c'è un piccolo problema Per tutto il fine Non fanno che dirti Che Alfie È l'arma definitiva Per distruggere Nomad Perché distruggendo Nomad L'Occidente Perderebbe la guerra E il personaggio Che ha guata nave Dice chiaramente Noi vogliamo solo vivere Voi pensate Che noi abbiamo Distrutto Los Angeles Ma in realtà Non è così È stato un errore Di codifica Un errore umano E l'Occidente Ha dato la colpa a noi Quindi Spiegatemi un secondo L'Occidente Per coprire L'incidente di Los Angeles Dove è esplosa Una bomba atomica Presumibilmente Per colpa delle IA Ha speso Miliardi e miliardi Di dollari Per una guerra Che non era necessaria Ma quanto è stupida Questa cosa Cioè Voleva essere Una critica Il fatto che gli Stati Uniti Muovono In generale l'Occidente Muove guerra Agli stati Dove ci sono interessi Ok Però il punto è che Qui dov'è l'interesse L'interesse è coprire L'errore umano E distruggere Intelligenze artificiali Ma se Le intelligenze artificiali Non hanno creato La distruzione Di Los Angeles Mi spiegate Per quale motivo Vogliono distruggerle Con così tanto ardore Da spendere Miliardi di dollari E milioni di vite umane Per una guerra Che non ha senso Ma perché Ci fosse Se fosse saltato fuori Che in realtà Hanno creato Una copertura Perché c'è un interesse Che hanno Nel combattere quella guerra Tipo non lo so Risorse nei paesi Della nuova Asia Oppure salta fuori Che si scopre Che le intelligenze artificiali Hanno un valore particolare Non lo so Inventati qualcosa Lì avrei capito La metafora Ma così Che cazzo mi significa Ma cosa vuol dire Non ha senso Questa cosa Cioè Questo spiegoncino Del personaggio Di Watanabe Mi confonde Solo e basta Cioè Quindi loro fanno Questa guerra Perché sì Ma che cazzo vuol dire Comunque ti dicono Per tutto il tempo Che la bambina Non è cresciuta abbastanza Per fare quello che sa fare Perché lei può spegnere Tutti gli elementi tecnologici Anche Nomad Ma ovviamente Non può farlo Adesso Ma Sempre Il personaggio di Watanabe Che è l'uomo È il simulante Degli spiegoni E questo è il suo potere Lui dice Se la bambina Venisse portata lassù Potrebbe spegnere Nomad Quindi quando Joshua E Alfie Prendono uno shuttle Che viene dirottato Su Nomad Per distruggerlo Mi aspettavo che La bambina Sarebbe andata su Nomad Con il suo potere Avrebbe spento tutto E la stazione Sarebbe crollata Invece no Alfie Aiuta Joshua Ad arrampicarsi Dove c'è la filiera Dei missili Mettere una cazzo Di bomba Su uno dei missili E cercare di scappare Mentre la base esplode Ora Perdonatemi Ma quindi distruggere Nomad Era così semplice Cioè Salta fuori Che per distruggere Nomad Avrebbero potuto Mandare Una flotta Di aeronavi A sparare Dove c'era la filiera Di missili Perché per il resto Nomad Non ha queste grandi difese Mi risulta Nomad È sicuramente Un'arma potente Ma è anche un'arma Molto lenta E che ha bisogno Di essere calibrata Se arrivano Delle piccole aeronavi Ok A sparare Dove c'era la filiera Di missili Nomad Non ha delle difese Per contrastare Questa cosa Altrimenti Avrebbero sparato A Joshua stesso Se ci fosse stata Una difesa automatica Per abbattere I corpi esterni No? Quindi Alfie e servità Spegnere un attimo Nomad Per Per Ingannare Il generale cattivo Con la faccia Stereotipata Da generale cattivo Per permettere All'eroe Della situazione Che Joshua Di piazzare La bomba Sommisse Ma allora Allora Cosa serviva Alfie? Poi ti dicono C'è il colpo di scena In realtà Tu non lo sapevi Gli dice il comitone Quello che a un certo punto Muore Il suo vecchio amico Tu non lo sapevi Ma guarda che Prima dell'attacco Noi abbiamo scoperto Che in realtà Nirmata Era direttamente Tua moglie Ah E che Ha creato Alfie A partire Dalla scannerizzazione Dell'embrione Che portava Nel Nel ventre Quindi Alfie Sostanzialmente Ha l'aspetto Senza che Joshua Lo sapesse Fino a quel momento Di Sua figlia Che Non ha mai conosciuto E che non è mai nata Oltretutto Ok Poco più avanti Nel film Si scopre che Lei È la figlia Di quest'uomo Che a quanto pare Era il vero Nirmata Quindi lei non è Nirmata Lei è la figlia di Nirmata Esattamente come ci dicevano all'inizio Quindi perché farci credere Come colpo di scena Che lei sia Nirmata Quando in realtà Nirmata era il padre Di base Sì Lei Eredita Il titolo di Nirmata Ma allora non è più Un colpo di scena Te lo dico a un certo punto Senza che sia un colpo di scena Che forse è la figlia di Nirmata Quindi Perché dirmi delle cose Che vengono disattese poco dopo Ci sono Queste due cose Sono fondamentali Te le dicono Per poi dirti No scherzavamo Non era così Cioè il finale Può anche essere commovente Ma non ha un cazzo di senso Cioè a un certo punto Il personaggio Watanabe dice Guarda che se l'Occidente Dovesse vincere la guerra Se noi dovessimo vincere la guerra Sai cosa succederebbe L'Occidente? Niente Noi vogliamo solo vivere Quindi è una guerra stupida E le guerre sono stupide Per l'amor del cielo Ma allo stesso tempo È una guerra insensata E se voleva essere Una metafora Come dire Ah tutte le guerre Sono insensate È una cazzata Perché anche se le guerre Sono insensate C'è almeno sempre Una finta motivazione Dammela Sta cazzo di finta motivazione Perché il fatto che Los Angeles Non sia stata distrutta Dall'essere umani È una copertura Ma non è una motivazione Perché lo stanno facendo allora? Se non è stata veramente distrutta Dalle IA Perché cazzo Stanno combattendo le IA? Dio bono Questa cosa mi manda i pazzi Ve lo giuro Mi manda fuori di testa La odio È un film Sì poi ci sono delle scene Tipo La battaglia sul ponte Può anche essere interessante Per l'amor del cielo Con 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 I carri americani Che agganciano Le persone con i raggi azzurri E quando il raggio ti aggancia Non puoi far niente È una scandalizzazione Che Non c'è niente Per impedire al missile Di venirti contro Ucciderti È anche una cosa interessante Per carità Però per il resto Boh Io rimango veramente interdetto I personaggi Non sono minimamente interessanti Il rapporto tra Alfie e Joshua Boh È lì E non Non si sviluppa in nessun modo Io rimango Molto amareggiato Devo essere sincero Molto molto amareggiato Perché Ribadisco Che questo film aveva tutti i numeri Per essere qualcosa di interessante E non lo è affatto È interessante come il campionato Di asciugatura della vernice sul muro Per quanto mi riguarda Mi stavo addormentando E non mi succede quasi mai Ho fatto fatica a tenere gli occhi aperti Purtroppo Quindi Questo è quello che pensavo circa Questo film Fate sapere un conto sotto Cosa ne pensate voi Se fate spoiler Contestinate il vostro commento Comunicito a spoiler Così non lo vediamo Il film che non l'ha visto Io vi abbraccio Vi ringrazio Grazie E noi ci vediamo Al prossimo Buon vlog Ciao a tutti